Toffa lanciata! Io che tira le molotov Uno da granate! Fa dietro! Dov'è? Dov'è? Fa dietro! Raggiungiamo questo punto! Uno da granate! Arriva il gas! Marco la nuova zona sicura! Il bestello non è arrivato! Chiudi gli occhi e ti sentirai meglio! Chiudi gli occhi e ti sentirai meglio! Ammazzate! Sono io! No, no! L'ho ammazzato è quello che va tirato giù al regà! Ok! Chiudi gli occhi! 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 Vittoria! No, no! Mamma mia ragazzi! Vittoria! 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 Che dice Ramburismo 98 King? chiediamo un po' magari ha qualcosa da dire se non mangia forse il legge eh amico combo killer, zero kill ragazzi ah vabbè, numero uno king